è stata presentata in streaming la quinta edizione del concorso sondaggio nazionale dell'associazione nel nome del rispetto molte le personalità che hanno partecipato alla colla tra cui la presidente della regione umbria donatella tesei che segue le attività dell'associazione sin dagli esordi condividendo nelle finalità c'è un tema che ho iniziato a in qualche modo sostenere nella mia precedente esperienza quando ero al senato della repubblica che è quello di istituire la giornata proprio del rispetto la commissione del senato presieduta all'epoca dalla senatrice cucciarelli ha anche portato avanti questo progetto chiedendo proprio che fosse istituito questa giornata in nome del rispetto che non significava fare una giornata di festa ma era una giornata di impegno sociale di impegno vero della nazione su questi temi il nostro processo formativo perché così è stato definito in base al format che noi abbiamo è stato definito così ed apprezzatissimo dal miur sin dall'inizio ed è stato definito in questo modo dall'università partenope all'incontro hanno partecipato altre autorità rappresentanti di istituzioni che patrocinano l'iniziativa insieme alla regione umbria armando gradone prefetto di perugia erica borghesi consigliera della provincia di perugia maria rita pitone dirigente tecnica dell'ufficio scolastico regionale quest'anno abbiamo tre tematiche la prima è rispetto a te stesso e l'altro diventando un soggetto attivo della società il secondo tema è il rispetto attraverso il linguaggio musicale e il terzo tema è un tema esclusivamente per l'università che l'intelligenza artificiale nel rispetto dell'intelligenza emotiva tra i patrocini anche quello della federazione italiana dei diritti umani comitato helsinki il cui presidente antonio stango e testimonial dell'associazione insieme ad altri soggetti che hanno partecipato alla videochiamata il generale dei carabinieri giuseppe meglio il professor paolo maria vissani presidente di adam e il dottor fausto cardella presidente della fondazione umbria contro l'usura la fondazione è a umbria contro l'usura ha tre linee di intervento la prima è quella del sostegno alle vittime dell'usura la seconda è l'aiuto a chi rischia di cadere nelle mani degli usurai in un momento di difficoltà la terza è proprio quella di promuovere la legalità di promuovere quindi il rispetto per quello che dicevo prima ecco almeno su questo terzo punto con l'associazione della presidente cristina di nobbi peraltro una mica credo che le occasioni di contatto non solo ci sono ma vanno vanno potenziate tra i testimoni alla anche importanti esponenti del mondo della cultura come lo scrittore attore marco bonini e gianfranco albano regista di film su tematiche sociali da cui spesso sono partite le discussioni stimolate dall'associazione nelle varie edizioni del concorso quello che è importante che dall'inizio ha avuto un grande successo proprio perché è un positivo non non si parla di bullismo droga o che per andare a dire che ci vuole il rispetto ma si parla di rispetto hanno aderito diverse regioni d'italia tanto è vero che quest'anno abbiamo sentito l'esigenza proprio per essere presenti nelle regioni di istituire la figura dell'ambasciatore di nel nome del rispetto sono 11 gli ambasciatori di altre tante regioni tutti insegnanti e dirigenti che svolgono la loro attività tra i ragazzi diffondendo i valori dell'associazione grazie a tutti grazie a tutti